Per Logan, Logan vuole attaccare sul blocco di Shea Laval, che poi rolla, non va più che rolla, più nemmeno Abbas, parte sulla linea di fondo, Abbas schiacciato per Jason Dean, che va a schiacciare? Questo è il merito, il canestro di Feldin, ma grande azione difensiva di Abbas, bravo Abbas.